Ho fatto, non devi morire, ho detto di all'ora te, almeno li lascio la linea se muoio Ho detto, l'autore S le avevo già tirate due e ho fatto nove, ma lo faccio Ma poi li scimo perché non ce l'avevi nemmeno te, non ce l'avevi nemmeno te l'autore S Scriviti al canale ma poi deve male sicuro che sono tirtato per questo è rimasto più tranquillo e il biscofo era dietro le piastre perchè li facciamo no ma era piano lei è il primo che è morto mi sono tirtato non ho più capito niente pensavo fosse morta la sniperina e non te e vedo una sacchettina e ho detto la colla al volo e qui mi servono le piastre ma ce n'era miliardi e poi ha detto e poi mi ha fatto devi spendere e l'ho speso e ho detto ce n'è troppo e ho detto vabbè qualcuno di spendere da uno ne deve essere il giro e poi ti guardo l'altro ma è domani mattina che ritenerevo sveglia eh eh e poi guarda guarda cosa studi tecnico? geologia ma la studi per piacere perchè te stavi via no l'università è la magistrale per stare via mi piace? si ma te ho la vuoi no? si vabbè il vero del rame c'è anche questa la vera e quale ho un po' rotto di girare l'italia guadagnando quando lavora il basso lo vado a fare? faccio il sotturritore industriale no faccio il sotturritore industriale no praticamente non so a volte senti le altre giornate ma la gente mentre si lo stia il grano mentre si intossiate e io quando succedeva il passo del genere si interviene e quando succedeva il passo del genere si interviene quando succedeva il passo del genere si interviene e ahio ma c'è niente lì? uno in trevo col quadro senza boss c'è uno dentro col quadro occhio giulì mamma mia si sta rosato scusate ragazzi io pensavo fosse soli mi dà il codice nico 97 26 97 41 41 27 ok 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 c'è una una anche io giulia ok qui qui si va ora? ho stimato a questa zona c'è qualcosa che devo prendere dentro il bunker o no? no cassa molle cassa molle no qui se me c'ho caricato la sala dove andiamo? ci blocchiamo st'a zona blocchiamo st'a zona vieni a piedi raga secondo me se ci blocchiamo un vecchio lì C'è un caixin cruciant We're inside the saw, keep your eyes open. 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 Wompelo. We're inside the saw, keep your eyes open. We're inside the saw, keep your eyes open. There's no other view. Thevest. L'elicottero, l'elicottero dietro e no? One shot No, si, ma uno è sceso, one shot quello che è sceso Sono sopra Davanti, occhio, la cassa è davanti, occhio a questa cassa, occhio a questa cassa Ok, era ci un tetto lotte già È qui, è qui, è qui, è qui, è qui Bravo Ciao Mi capivo dove era Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Due Oh, io io vò a prendere, ma non ho rotto il cazzo, se muoio muoio, ah Quando io non vi ho controllo, io tiro Tira, io tiro il luo Tira, io tiro il luo Ah, mi ha aiutato Da me, da me, Giulie, da me, dietro di me Dietro di me Ah, no, niente Carco, Dio, carco Letta, dava Letta, tross lady, Sam Perdi, parco So the heavy channel, healer bar Ma prendo la sua perchè... eh guarda, fanculo, dai eccovi, poi puoi poter andare verso Mamma mia mamma mia, guarda i tempi E' un celesto Ehi E' arretro Nicolo Adesso, adesso, c'è un peccino, sono un due Non lo so, ma io c'ho un grau a cinquanta poche Non lo attirerà Atterra due Mamma mia, fanculo, la boia del movimento Ah, niente Atterrati 18 Niente, uno è sempre vivo Ci volevo Ciao, ci dovevano avete Sbretti, ma atterrati 3 Ancora È sotto, Giulia Non c'era qua Ok Parca troia Sinistra? Ah non è la cassa quella No è tutti stanti Si quello però è un po' più di nuovo Quello è proprio di merda Era il vertice, era il vertice un triangolo Isosceler Il tutto È un bel Aspetta, 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 no torna da giuli, torna da giuli Qui ce l'abbiamo per tutti Qui si stanno briceolando i tuoi Sì, vai da giuli che così mi restate Forse poi ci si riesce a fare il drone, forse Va, Leandro, giuli Vai, tirano giuli, 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 vado a lei At the max, the one Dove vi pari No, tu veniamo da specie No, basta tirare lo dovessi fare Io cosa prendo con 3-8, vaga? Io prendo piastre? Io so full, vedi tu Teni con 4-8, no, io per me mi serve Io sono full, io sono full Arbor here! Mi devi in un bombardo, vale Eh, ormai ho preso piastre, non ce l'avevo Prendiamo Ghost? O no? Sì, ok Non basta Maaan Basta non si riuscita Lascia un'one, lascia un'one Headed out No, ho preso, io basta solo con... Ok, come on Scroo, gas moving in Brantley is in a safe zone macchina sono allo shop eh ma gli hanno fatto un attentato davanti a me prendiamo il palazzo c'è chi ne ha dato apposso voglia mi è arrivata una stioppinata cambierai casa guarda si deve andare su questo po' uno solo non colore st poca lato sono abbastanza centrale ora 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 mi sentite se mi sentite qui mi c'è gente sopra messo a tetto B boh li stanno assertando questi drop dov'è? guardami c'è un po' una cosa incendiare ah boh ho avuto paura mi era venuto male il zimbolino mi sembrava che eri andata a pusciarle lascia lascia le mando ci abbiamo gente a casa solo io vale a fare queste osi solo io vale se mi prendo il matto faccio queste osi no no pure a me però li conosco adesso siamo on game quindi quanto mi garberebbe prendere questa ossa però è un tipo l'idea anche se mi garberebbe se non va chissà qualifia però un po' comunque se non è bisogno di uscire da destra ci sia gente a destra siamo in safe io me ne so qui così URAGALALA non vuoi piacere ragazzi ce l'abbiamo qui questi ci sbucano di qui eh vale occhio ah lo so ma questi ce li abbiamo accanto team D3 dietro di noi qui 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 lì a qui sotto di noi è a sinistra è alla nostra a sinistra alla nostra a sinistra raga e io non so cosa fa ma cassa rossa c'è un selfless raga ho bisogno di piastre mi sono fatto il selfless mi potrà delle piastre eh queste viste mi metto adottare l'ultima save le porte c'avete delle piazze? dammi raga sì ce l'ho io ce l'ho io tieni 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 dov'è cassa dietro di noi dietro di noi al benzinaio c'è le piazze raga dove 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 grazie grazie ce ne uno al benzinaio eh mancano due di qua sono dentro lì il cos sì c'è la mantezza il tipo di via c'è la mantezza c'è la mantezza che ca**a è è il tipo di via e la caccia boia raga con l'uzzivage con l'uzzivage orto dio il ritorno della Bruen il ritorno della Bruen il ritorno della Bruen il ritorno dell'Italia sperata bella 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 bella